Con il termine di buried penis intendiamo una situazione di pene nascosto. Annoveriamo il pene nascosto nelle cosiddette false brevità del pene, perché a dispetto di una normale lunghezza dell'asta, il pene risulta accorciato per avanzamento del cosiddetto angolo addomino penieno. Cioè, generalmente, un'anomala quantità di grasso perigenitale nasconde il pene. Tecnicamente la chiamiamo l'ipodistrofia perigenitale. Altre volte, invece, il pene nascosto dipende da una retrazione dell'acute del pene stesso, come si può avere nelle situazioni di lichen sclerotrofico. Quando il pene nascosto è dovuto ad una lipodistrofia perigenitale, non è sufficiente dimagrire, poiché questo grasso è in modo anomalo distribuito a livello perigenitale, per cui occorrono degli interventi chirurgici di addominoplastica e di lipoaspirazione perigenitale per riportare il pene all'esterno con un intervento che definiamo appunto di esteriorizzazione del pene.